almeno titans cosa è successo non importa gli hive stanno trasformando il loro quartier generale in una stazione spaziale di combattimento proprio così una stazione spaziale di combattimento guardate ho intenzione di infiltrarmi e di distruggere la loro torre prima che il piano vada a buon fine ma la torre degli hive non è troppo bene protetta per provarci ho già la soluzione che ne dite ah finalmente hai cambiato il tuo look no non ho cambiato non sai quanto era terribilmente ridicolo il tuo vecchio costume già non volevamo dirtelo ma era davvero penoso avete frainteso bella la tua nuova voce quella vecchia era così fastidiosa titans go ascoltatemi fate come dico mentre la mia voce stridula vi fa sanguinare le orecchie ah non cambio costume ah fingerò di essere un cattivo chiamato red x e così penetrerò nella torre degli hive red x il cambio di nome lo tieni vero molto meglio dirò niente sarà permanente allora perché dovrebbero lasciarti unire a loro quando prenderò il loro componente più grosso e cattivo gli farò vedere mi supplicheranno sarà una missione veloce dentro e fuori questa stazione diventerà la fusione perfetta tra comodo e micidiale avanti mi chiamo red x e voglio far parte degli hive sai di solito non è così che reclutiamo la gente cosa credi che non sia abbastanza forte sei dentro credi di essere un duro è cosa ti prende dolcezza dopo tutto non sei così grosso e cattivo ho detto che sei dentro oh scusa beh stiamo lavorando a un progetto di miglioria della casa tu mettiti comodo è cattivo ho chiesto scusa come avevo detto dentro e fuori red x ci va un po di pizza basta che non sia consegna a domicilio perché tra due minuti non ci sarà più una torre a cui consegnarla abbiamo un nostro forno a legna pizza cotta a legna scusate mangiamo forza ottima questa pizza crosta croccante è un vero peccato che questo malvagio forno a legna debba essere distrutto domani potremmo fare pizza hawaiana hawaiana scusate la cena è servita pesce e piselli surgelati che razza di cena è io ho fame ma tu non hai aggiustato la macchina forno a microonde come avevi promesso oh quindi solo perché ho detto che l'avrei aggiustato sono io che devo aggiustarlo vivete nel mondo dei sogni allora hai distrutto la torre degli hive non ancora le cose si sono complicate beh possiamo discuterne alla cena per me no sono strapieno gli hive hanno un forno a legna per la pizza tu hai mangiato la pizza? sì e oltretutto cotta a legna era cattivissima distruggerò la torre domani sarà veloce dentro e fuori quindi la torre domani sarà veloce